Porto un attimo con le domande che mi sono arrivate da internet. Primo, percorsi di studi di chitarra che hai fatto? Allora, io ho fatto cinque anni da un maestro privato di chitarra. Lo dico per fargli pubblicità perché gli voglio un bene dell'anima. Si chiama Marco Cecilia. Ok. E in realtà non so se insegna ancora in una scuola a Roma che si chiamava Controchiave. Non so se è ancora quella scuola lì. Io sono andato, sono stato suo allievo per cinque anni. Hai iniziato subito col maestro? Ah ok, hai fatto l'autodidatta prima. Sì, io ho iniziato a suonare che avevo una decina d'anni, dieci, undici anni. Più o meno ero più elementare, quando ero un ragazzino. Pensate, avevo la chitarra in scala più piccola, elettrica. Ah ok, tre quarti. Sì, esatto. E poi mi fece una chitarra vera e propria e iniziai ad andare dal maestro. Primo concerto l'ho fatto a 13 o 14 anni. Io a 12. Ok. Abbiamo la stessa storia. Solo che io non sono nessuno adesso. Beh, perché io... Siamo due Abdul. Esatto, siamo due Abdul. Abbiamo vissuto la stessa vita e non lo sappiamo. Però mi ricordo che dopo il primo concerto, un tizio a caso nel backstage di un'altra band faceva roba, mi faceva, no no no, guarda tu, secondo me tu devi iniziare a prendere lezioni. In realtà io avevo già deciso di farlo. E quindi, perché io ho iniziato a suonare, perché mio fratello suonava, fratello grande, cinque anni più grande. Non è che studiavi da autodidatta? Perché quando noi eravamo, avevamo quell'età, cioè tipo io ti dico, avevo un libro vecchissimo di mio papà, che era un libro del cavolo. E poi ho cominciato a prendere delle uscite in edicola settimanali. Non mi hanno insegnato niente in realtà, però ti facevano suonare delle canzoni, erano tipo i tutorial di una volta praticamente. No, io da autodidatta non studiavo. Cioè nel senso che, allora gli accordi basilari me li ha insegnati mio padre, perché mio padre suonava e mi dava una mano mio fratello. Ah giusto, perché il tuo fratello suona. Perché mio fratello era cinque anni più grande di me, lui aveva iniziato a prendere lezioni da subito, cioè da prima di me. Già questo aiuta, perché io non avevo nessuno che suonava la chitarra a casa. Quello lì aiuta. E un po' quindi mi facevo ispirare da lui. La gran parte delle cose in realtà io suonavo per fatti miei, quindi mi sentivo delle canzoni e provavo a orecchio a trovarle. Io ho avuto un rapporto super conflittuale dall'inizio con le tablature, perché non le ho mai… Cioè, ok, 12, 13, di qua di là, però le tablature non ti danno il ritmo di quello che fai. Almeno quelle secche, così come sono, se non è lo spartito. Esatto. Lo spartito non mi andava ad imparare a leggerlo, perché ero figro intellettualmente. E quindi tutto ad orecchio. Tutto ad orecchio. Tutto quanto ad orecchio. Beh, io sì, i primi quattro anni ho fatti tutti così. E quindi le prime forme, per esempio la pentatonica standard, quella che sta sull'eolio della maggiore, per capirci, me l'ero tirata giù da solo. Ma dai! Sì. Anche la scala. La scala pentatonica, sapevo che era quella. Ero arrivato, perché in base agli assoli delle canzoni, vedevo che, per esempio, uno dei primi assoli che avevo imparato era l'assolo iniziale di Strange World. Si fuori una scala senza sapere... No, beh, perché vedi che le note ci stanno più o meno. Sì, però c'è, veramente... Cioè... Per esempio, Strange World degli Iron Maiden, c'ha questo assolo iniziale che è lentissimo, ed è veramente molto bello. Quando lo risento mi piace sempre tanto. Era pentatonica, però aveva un pezzo di scala maggiore, cioè, diciamo, della versione minore della scala maggiore. Cioè, era il mi minore, però. Sì, esatto. E lì, vedendo le note di quella roba lì, ho visto, ok, allora io so che sul mi minore posso fare questa pentatonica qua, però questa canzone, che è il mi minore, scende in questo modo qui, su questi tasti qua, e quindi mi ero tirato giù anche Ione Catori col friggio. Quindi tu hai imparato a improvvisare da autodidatta? Cioè, neanche da autodidatta, perché gli autodidatti di solito lo studiano sui libri. Cioè, tu neanche quello... Vedevo che le note erano quelle, dico, Vabbè, allora io so che se faccio queste note qua ci stanno, se faccio le note del friggio, il mi minore c'entrano, e quelle erano le uniche due cose che avevo imparato. Poi, quando sono andato al maestro, che mi ha spiegato, sono rotolato tutti i modi maggiori, le scale pentatoniche, lì mi fa piacere perché dà speranza a molti che dicono eh, ma si può imparare da autodidatta? Minchia, anche senza i libri? Sì, beh, è chiaro che non ci... Ti fai un culo così, ovviamente. Non è che da autodidatta ti metti a suonare i 2-5-1, bisogna anche essere abbastanza svegli, perché io non so se ci sarei arrivato una cosa del genere, cioè tirarmi fuori la scala, semplicemente... Anche perché il concetto di scala... Poi magari a te te ne parlava qualcuno. Eh, ma no, sì, lo sapevo, perché mio fratello mi parlava delle scale maggiori, però non mi diceva come erano fatti. Poi pensate, un'altra cosa che fa... Giusto per... Siamo tra chitarristi, quindi posso parlare del chitarristese. Io ero un grande farde metallica e imparando a suonare non ero capace e né io né mio fratello ci capacitavamo di come cazzo si faceva la solo di One, che ad oggi è una delle storie più stupidi che esistono, perché è un tapping velocissimo fatto a caso, no? Detto proprio... Che poi è fighissimo suonare da una... Tutorial veloce, tapping velocissimo fatto a caso. Sì, però non ha una ritmica quel tapping, cioè non è un tapping strutturato, è fatto così, ma anche col plettro magari. C'è ne sono tanti di chitarristi famosi che fanno tapping con tempi... No, aspetta, non posso alzare la mano perché non sono famoso. Eh, dai. Però sì, robbi un po' così uno le fa, non è... E mi ricordo questa cosa, mio fratello iniziò ad andare a lezione dal maestro, gli portò One dei Metalli, il mio maestro non ascolta metal e ci dava un'impostazione rock, jazz più o meno, quindi puntando molto sull'armonia. Il nostro maestro suonava fingerstyle, quindi... Pazzesco. Cioè tu sei cresciuto metallaro studiando jazz. Sì, studiando jazz. Sì, 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 sì. Quindi mi sono concettato più sulla parte teorica, l'armonia, le cose, perché il maestro mio cercava di farmi, di spingere nella parte dove ero più deficitario. Chiusa parentesi, a un certo punto una sera... E secondo te è una cosa positiva? Sì, di puntare sulle debolezze, secondo te è stata un'ottima cosa? Sì, assolutamente. Per quello che vi faccio pubblicità del mio maestro, perché poi ne parliamo... Apriamo la parentesi dopo perché così vi finisco di raccontare questo fatto qui che è una stronzata in realtà. Buonasera, vado a dormire, mi lavo i denti e mio fratello aveva la stanza che era dall'altro lato di casa mia, avevamo una casa abbastanza grande in Roma, quindi mi lavo i denti e sento in lontananza One con la solo sopra, però sento che è un po' diverso da quello del disco, quindi ho fatto... Non ci credo, se mio fratello sta facendo la solo di One, no, non è possibile. Vado di là, sento che fa questa roba qua e gli entro dentro lo studio e lui si ferma e faccio... Ma tu stavi facendo la solo di One, come cazzo hai fatto? Perché effettivamente per uno che non sa che esiste il tapping, con la roba all'altro dice... Ma da dove viene? Cioè, che cos'è? Da dove viene fuori? Pensa che io ho scoperto il tapping quando ero in prima media, che ho sentito eruption, cioè... Ho sentito eruption, ho detto... Ma che cazzo? Cosa cazzo sta facendo questo qua? Che cos'è sta roba? E mio fratello fu un fossoronzo, perché... Bonariamente... Perché... Mi fa non te lo dico, ma come non me lo dici? No, 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 è un segreto. E quindi si tenne sto segreto per un paio di settimane, in cui io lo odiavo a morte, perché lui sapeva fare quel cazzo di assolo, non mi voleva dire come si faceva. Poi dopo un po', dai, dai, dico, vaffanculo, dimmi come si fa questo assolo. E mi spiegò che esisteva il tapping. E io a undici anni non sapevo fare un cazzo, sapevo fare mezza pentatonica, mezzo friggio e il tapping di one. E quindi quando veniva la gente a casa per fare il figo che sentivo che entravano mi mettevo a fare il tapping di one per fare il figo. E infatti il tuo maestro probabilmente ti ha visto e ti ha detto no, 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 no. Ok, lascia perdere questa cosa qua e cominciamo a fare gli accordi magari. Esattamente. E il mio maestro tra l'altro aveva visto che... Che secondo me è un problema di chi... Cioè, degli appassionati di metal che appunto si mettono a fare cose tipo così, però poi mai... Suonare in chiesa non lo sanno fare. Non lo sanno fare, esatto. Tanto io suonare in chiesa per anni. Anche io trovo. Ecco, grandi. Io non lo so farei suonare in chiesa. Ecco. Ah, ok. Beh, per un veneto... Vabbè, non arriviamo... Non arriviamo a discussione. Non tiriamo a fare... Ma io, devo dire la verità, aver approcciato la musica in quel modo lì a me mi ha salvato. Ma non tanto sull'esecuzione della chitarra, ma più che altro proprio per la concezione della musica, dei pezzi, dell'armonia che ci sta dietro, tutta quella roba là, se io fossi andato da un maestro più metal minded e mi avrebbe insegnato la tecnica, le cose, non avrei capito come funziona, come si muovono le armonie sotto, i gradi, i modi e le cose così. Invece in quel modo là io ho avuto la possibilità di avere delle nozioni, anche se basilari, ma che mi consentono su dei pezzi rock, da strutture semplici, di poter fare quello che posso fare tra triadi e scale senza scomodare le cose più complesse che comunque ho visto, ma che ormai uso poco, tipo le super locri e queste cose qua, che è roba che ho visto col mio maestro, suonare sugli accordi alterati e cose così, che ho visto le toccate, so cosa sono, non sono proprio il mio pane, so che ci sono dei trick per poter comunque cavarsene in certe situazioni e amen. Quella roba là mi è tornata un botto utile per tutta la composizione, come scrivere le melodie, come far girare i pezzi, è una cosa che, secondo me, deve essere parte del bagaglio di un qualsiasi musicista. La tecnica me la sono vista, il mio maestro mi ha spiegato come funziona un po' la tecnica generale, però poi dopo le... E poi ti ha improntato molto di più sulla teoria che non sulla tecnica? Mi dava gli esercizi anche tecnici da fare e perché conosceva, lui mi pare per tanti anni aveva suonato col plettro, quindi sa com'è che funzionano, mi dava le diteggiature e gli esercizi da fare e io li ho fatti. Quante ore suonavi al giorno? Eh, ti ho sai, non lo so, non te lo so dire. Però tanto. Tanto, delle specie quando ero più piccoletto verso le medie, inizio degli anni di lezione tutte le sere tornavo a casa e suonavo molto e il pomeriggio pure abbastanza. Poi da quando ho iniziato ad avere il mio primo sistema di home recording più che suonare mi divertivo a registrare e ho un'intera collezione di robe inascoltabili in cui io praticamente riregistravo un'intera canzone che ne so, prendevo una band che mi piaceva Power, gli Gamma Ray o gli Halloween. Ma uguale o facevi la tua versione? Facevo la mia versione però che alla fine tendeva ad avere esattamente gli stessi le stesse cose quindi ascoltavo ogni dettaglio per capire le chitarre come erano messe, che cosa c'era. Quello pure mi è servito tanto perché mi è servito per dare un'idea di come funzionano le strutture, di come registrare, di come comporre, quello mi è servito tanto. quindi sì, proprio in chitarristese che possiamo... Ah, cazzo, Brian May ovviamente. Ah, ti piace. Io sono un grandissimo fan dei Queen, tutti i dischi. Poi, vabbè, boh, di genere... Ah, no, io sono un grande fan, adesso mi odieranno tutti, di Andrea Braido. Ah, come mi odieranno tutti? E anche nel periodo di Vasco Rossi. A me piace Vasco. Ma tu lo sai che la prefazione del mio libro è scritta da lui? Da Andrea Braido? Sì. Oh, porca puttana. Io sono stato a un concerto da Roma, fecero un concerto con la Braido Band e poi dopo c'era un'altra band con Tony Magalpine, Billy Sheehan e mi sa Virgil Donati alla batteria. Io ero andato là per vedere Braido. Comunque, io credo che se Braido non avesse suonato con Vasco io non avrei mai sentito Vasco. Ah, ok, no, bene anch'io. E comunque il periodo di Braido con Vasco secondo me è da ascoltare. Sì, sì, sì. Io sono fan di fronte del palco. Esatto. E poi però il problema è che quello ha fatto Breccia e alla fine sono un fan di Vasco fino al 91 da quando è uscito gli spari sopra. Vabbè, comunque... Braido suona con Mina adesso. Non so se suona ancora con Mina. Beh, ma Braido ha suonato con Macello. È una leggenda Braido, oggettivamente. E comunque è pazzesco, cioè io lo adoro. Qual è la tecnica più ostica? Sempre domande che mi sono state fatte. È la tecnica più ostica che hai dovuto imparare e che ti ha dato più rogne. Quella che ho imparato? Perché ci sono delle tecniche ostiche che non so e non riesco. Di quelle che proprio... La più ostica è il mix tapping e string skipping. Ah, ok. Quella roba è assurda. È tutta la roba di Michael Romeo dei Sinfonix che sono dei tapping con salti di corda. Perché forse hai cominciato a studiarla troppo tardi. Forse sì. Cioè, tu quando è che hai cominciato a provare quelle robe là? No, ma mi ci sono avvicinato boh, cinque anni fa ha detto quello... No, basta. Secondo me è quello il problema. Cioè, nel senso perché quello è proprio una concezione diversa secondo me di pensare al movimento eccetera. E a silenziare tutto quanto perché se tu suoni su... Quindi è un problema col muting della mano sinistra. Sì, tanto. Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Tanto tendo a portarmi a presso un po' di sporco. Ma in studio tu usi il mutatore? No, no. Ma io invece su molte cose lo devo usare. Sì, sì, sì. Perché a volte tendo a portarmi a presso un po' di sporco. Però dal vivo non mi sembra che fai tanto casino. No, vabbè, perché le cose che faccio dal vivo... Allora, uno, dal vivo non è richiesta la pulizia da studio. Sì, però comunque io quello che ho ascoltato non vi ho mai visto dal vivo stasera la prima volta. Di solito la prima volta è breve. Speriamo che sarà un concerto full length. però ho visto quelle registrate dal vivo quindi comunque sto attento a quello che fai però non mi è sembrato... Ma perché è il tuo standard di attenzione dal vivo che è più tollerante. Se tu senti una roba in studio che ha delle leggeri imprecisioni che dal vivo tu senti dici vabbè aspetta no. E invece dal vivo io, vabbè, sì tendo ad essere un po' più libero suonare un po' più in tranquillità e quindi tendo a portarmi un po' a disposizio. Chitarra che preferisci? E qual è stata la prima chitarra? Allora prima chitarra è stato un chitarrino tre quarti Ma la prima era elettrica? Ah ok Hai cominciato subito con l'elettrica tu? Con l'elettrica poi avevo una classica anche per suonare in chiesa e poi la prima vera e propria chitarra elettrica che ho avuto è una Ibanez remake di una Stratocaster sai quelle robe che trovi a 200-300 euro era l'unica simile Stratocaster rossa perché a me piace il rosso infatti le mie chitarre sono tutte rosse tranne quella vera anche la mia prima chitarra era rossa mi piace molto il rosso come colore quindi volevo una strato rossa e quando lo chiedevo a mio padre diceva ma che chitarra vorresti? vorrei una Stratocaster rossa lui si accorse che l'unico modello usa USA rosso era una Eric Clapton che all'epoca costava 2 milioni vabbè ti faccio l'Ibanez e quindi purtroppo mi sono dovuto accontentare poi dopo quella la mia vera e propria chitarra che mi ha praticamente quasi sempre accompagnato è una Blade che ho trovato usata al second hand chitarra del 2002 a Milano sono andato a Milano apposta per vedere SHG second hand chitarra ah ok ma lo fanno ancora? si si sempre all'Alcatraz è pazzesco si si perfetto io sono andato lì no no non so se lo fanno all'Alcatraz so che lo fanno ancora noi eravamo dei grandi frequentatori del Disma non so se ve lo ricordate dove era? era fiero degli strumenti musicali di Rimini ah ok si perché mio padre suona suonizia a casa nostra abbiamo proprio una passione per le chitarre cioè a Roma casa mia dove sono nato abbiamo una cosa come penso una trentina di chitarre in tutto tra chitarre e banjo chitarre di mio padre acustiche dodici corde abbiamo di tutto e quindi ogni anno tutta la famigliola andavamo a questo Disma Music Show dove c'erano anche i concerti dei vari Faso Cesario e tutti quanti però lì più le chitarre non le puoi comprare come? no ho detto c'era anche Begotti ah Begotti si 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 l'abbiamo visto un paio di volte Begotti Begotti è di zona no non lo so Donato Begotti no è romagnolo è di Milano è di Milano di Milano lui ho visto pure una specie sua di dimostrazione ma gira ancora si 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 le scuole succursali anche qua della sua scuola ah ok perché lui c'ha una scuola tutta sua e lui c'era un periodo che andava in giro sempre con la Warren Smith e il Mesa esatto è quel anno che aveva lanciato il Brutus ah è vero si si di lì a poco è vero è vero è vero il Brutus è vero cacchio palvolare piccolino si si che c'aveva anche la cassa insonorizzata mitico Begotti è un mito e beh si 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 e quindi frequentavamo sempre il disma ma lì le chitarre non le potevi comprare le potevi solo vedere si e il mio maestro aveva tra i suoi allievi alcuni che avevano delle blade RH2 o RH4 che sono i modelli di punta e quindi decidiamo di andare a questo second hand guitar io sapevo che più o meno sarei tornato con una chitarra in mano però non avevo ancora deciso cosa o quale poi c'era con mio padre mio fratello andiamo lì vediamo un po' di roba a destra e manca però non c'era niente di veramente interessante prima di andare via torna mio fratello che si era perso nella fiera per fatti suoi viene da mio mio padre e fa ho trovato una chitarra se tu non te la compri te la prendo io ho bene ok andiamo a vedere ed era la mia chitarra quella che poi è diventata proprio la mia chitarra che è questa blade california custom numero di serie 20.000 preciso ma dai si proprio preciso preciso ed è una stratocaster potenziata diciamo che ha circuiteria attiva e i magneti suoi proprio della levingson gary levingson che è il proprietario di blade e che ha anche la circuiteria attiva ha quindi un boost per diciamo colmare il vuoto esistenziale delle stratocaster che dà un suono anche un po' più cupo e poi ha la possibilità di switchare su sempre un'altra circuiteria attiva un altro settaggio che dietro ha un equalizzatore che puoi settare tu con delle viti che giri che ti puoi fare la curva di equalizzazione tua del magnete e quindi aveva un suono iper appuntito sugli acuti che serviva per simulare come se fossero delle specie acustiche anche se non aveva il piezzo oppure un suono più caldo medioso per fare le robe più spinte oppure il suono flat da stratocaster il vero e proprio con ovviamente il pick up splittabile per poter fare sia single coil che unbucker meccaniche autobloccanti tastiera in ebbano che mi sono innamorato della tastiera in ebbano quella è stata la tua chitarra principale quella è tuttora la mia chitarra principale che però non suono più dal vivo tra l'altro tanto per tornare a vasco solieri è endorser blade la sua chitarra che sembra una strato in realtà è una blade perché i modelli di punta del blade sono simili strato ah ok chiudere in studio io uso porre smith ve lo dicevo le scrocco da mio fratello o da qualcun altro però solo per quindi secondo te quello è top si io sono un mesa bugiano comunque ti ringrazio grazie a voi è meglio che ti accompagni al concerto forse non so a che ore sono mi sono perso mi sono anche dimenticato che c'era una telecamera quindi mi raccomando tagliate bene quello che ho detto non taglieremo niente nulla perfetto fantastico grazie mille è stato super interessante grazie mille grazie ciao alla prossima grazie mille